insomma questa cosa qua mi domando se uno di 92 anni deve fare queste cose per il municipio insomma pesa anche abbastanza tutto sommato ecco questo lo portiamo per il nostro sindaco qua ecco questo l'ho raccolto signor sindaco era davanti al Orvea ed è l'ennesima volta che va per terra e poi quelli che sono addetti lo rimettono a posto ma non lo fissano allora ho pensato prima che lo portino via gliel'ho portato che le potrebbe servire come simbolo per la futura campagna elettorale signor sindaco grazie